Vista dall'alto, Mondolfo, adobbata per le festività di Natale, sembra un vero e proprio presepe di miniatura. Domenica scorsa, scoccate le ore 18, è stato acceso nella piazza del borgo più bello d'Italia, l'albero di Natale e le luci decorative in tutto il paese. Per garantire il rispetto delle normative Covid, l'amministrazione comunale ha realizzato una diretta Facebook per poter dare la possibilità a tutti i cittadini e anche a quelli dei comuni limitrofi di assistere all'accensione tra interventi, musica dal vivo e immagini suggestive. L'accensione delle luminarie quest'anno assume un significato del tutto particolare, è un segno di speranza, un auspicio di rinascita dopo un periodo difficile legato all'emergenza sanitaria e la speranza è che la luce del Natale possa spazzar via questo periodo complicato e si possa tornare presto alla normalità. Sono stati dei mesi difficili dove però la nostra comunità ha dimostrato di saper reagire con grande solidarietà, coesione sociale, senso di responsabilità e con tanti volontari delle associazioni del territorio che hanno contribuito ad aiutare l'amministrazione comunale nel sostenere le famiglie in difficoltà. Esprimiamo la nostra vicinanza, le famiglie colpite, a chi sta combattendo e a chi purtroppo non ce l'ha fatta nella lotta contro questa terribile malattia. Purtroppo l'emergenza sanitaria non è conclusa, dovremo trascorrere le festività natalizie in modo diverso da come eravamo soliti fare, però questo non deve fermare lo spirito e il fascino del Natale. L'augurio è che il Natale possa essere nel segno dei valori, con un pensiero sempre alle persone in difficoltà. Novità di quest'anno, l'illuminazione dell'intero palazzo comunale, accompagnata da una cascata di luci bicolore, dalla torre civica fino all'estremità della piazza. Al centro invece, l'albero di Natale, realizzato interamente all'uncinetto con ben 2800 formelle. L'albero è stato realizzato con delle piccole mattonelline che vengono fatte manualmente ad uncinetto. Poi ogni mattonella viene assemblata ad altre in maniera consecutiva, legandole tra di loro con l'uncinetto. La stella invece è stata realizzata su una base di legno con del materiale di spago. Ogni mattonella è composta da 26 metri di lana, che moltiplicate per le 2800 mattonelle, che compongono complessivamente l'albero, si sviluppano 72 chilometri di lana riciclata.